Torna in Parlamento, ma in una postazione diversa, Giuseppe Mangialavori, coordinatore regionale di Forza Italia. Senatore nella precedente legislatura, il parlamentare Vibonese ora viene traghettato alla Camera dei Deputati, portando in dote un lusinghiero risultato per il suo partito in Calabria. Dal Senato alla Camera, ma sempre una postazione in Parlamento. Sì, dal Senato alla Camera una postazione in Parlamento, questa volta una postazione da maggioranza, per cui mi auguro di poter realizzare tante cose per la nostra Calabria e per il nostro territorio Vibonese. Un successo di Forza Italia che significa anche un successo per il coordinatore regionale di Forza Italia. Questo è un partito che raddoppia quanto è la percentuale a livello nazionale in Calabria. Sì, è un risultato che io dico sempre è il frutto di una squadra che siamo stati bravi a mettere su in piedi, a mantenere, a vitalizzare ogni giorno. Quindi è un risultato che è merito non del coordinatore regionale, ma di tutti coloro i quali giornalmente si spendono sui territori per il nostro partito. Ci sarà una rivoluzione anche a livello regionale? Ma non penso, non mi sembra assolutamente che ci sia questa possibilità. Naturalmente ci saranno sostituzioni degli assessori che sono stati eletti in Parlamento, però se lei si riferisce ad uno sconvolgimento, un assess diverso a livello regionale, penso di no. Per quanto riguarda il territorio Vibonese, sarete in due a rappresentarlo, uno di maggioranza e uno d'opposizione. Come ci si può confrontare? Ma ci si può confrontare, indipendentemente dalle posizioni politiche diverse, lecitamente diverse, ci si può confrontare nel merito dei provvedimenti che interesseranno il nostro territorio. Con l'On. Etuccio un ottimo rapporto, umano, personale, di stima, per cui sono sicuro che potremo fare un bel lavoro. Naturalmente ognuno dà la sua posizione. Naturalmente ognuno dà la sua posizione.